Per quelli che non lo sanno, questo gioco viene giocato online con quelli che hanno nel loro processo l'Xbox One e anche i PC. Cioè tutte e tre piattaforme si uniscono sulla modalità online. Solltando Sony non avvolto, va far parte, nuova macchina. Dove siamo? Alla stazione dei treni? Oh ho? Oh ho. lui gioca molto bene ma come fa? wow wow rete no rete no no devo rimanere indietro lui sempre prende il pallone subito dall'inizio aspettiamo qua ah guardo qua di nuovo ci ho provato però ho pensato che così andando guarda qua io ero sopra ho pensato che potevo salvare così buah ci hanno distrutto 05 bubbles i giocatori in giro da più di nano e alcuni giocatori sono diventati molto buoni non lo so se il gioco capisce che nuovo giocatore che molto buono per fare le separazioni non avere partite e non hanno senso guarda qua Todd ho spesona guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua l'allandro quasi Sì, si è riuscito Bambis di nuovo No, no, no No, 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 no No, ah, ha sbagliato No, no, no Ho ho! 11 km per ora! Vai vai vai! Vai vai vai! Ihhh! Uno arete! non c'è una difesa oh te 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 Babius ha segnato di nuovo zero disastro non c'è 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 Sì Ho fatto la mia prima rete Ho segnato Un momento storico Un gol incredibile Un momento storico 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 Ho sognato Di nuovo Di pochissimo Di pochissimo Però abbiamo segnato Guarda qua Guarda qua 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 Aspetta aspetta qua Ma la la pala verso di me Mo Di fesa Dove Dove dov'è da Dove sta andando No 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 lo ha visto Oh 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 No 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 C'è provato però No 4 4 No Hanno fatto due reti Verso la fine Oh Tutte due insieme Guarda qua Fortunato Fortunato Grazie a tutti. Abbiamo perso.